E sembrava Samuel. Io ero proprio convinto, che piacere averti qua. Ma che bello, grazie per l'invito. Grazie a te di averlo accettato e come stai? Io sto bene, il periodo non è quello migliore, ma per tutti. Però tu si può dire che hai iniziato bene l'anno? Io ho iniziato bene l'anno perché è uscita questa canzone che si chiama Coccorico, che sta andando molto bene, mi dà grosse soddisfazioni, è uscita proprio la notte di Capodanno. Tu e Vasco? Io e Vasco, sì. Ma chi prima? Come orario? Diciamo che Vasco viene sempre prima di tutti. Però io eravamo appaiati, poi ci siamo separati. E come va allora? Questo periodo non è facile per nessuno di noi, non è facile per te, per la musica. Uno come te, appunto, che si espriglia massimo. Io ho sempre detto di fare anche con i Subsonica musica d'assembramento, fondamentalmente. Non siamo nel momento giusto. Prima dicevamo non fate musica da camera. Esatto. E quindi sicuramente il live è parte fondamentale della nostra musica, in questo momento non si possono fare. O, per carità, noi l'altro anno l'abbiamo qualcosa fatto, l'altra estate, però tutti seduti, distanziati. Quindi ho dovuto ritrasformare un po' lo spettacolo con della musica che è tendenzialmente nata scritta per ballare, per vedere la gente assiepata sotto il palco. Invece, in realtà, stavano tutti seduti. Quindi ho dovuto fare un po' più teatrale. Certo, certo. Trasformare un po'. È stato più uno spettacolo un po' più radiofonico, diciamo. Sì, è proprio più teatrale. Nel senso che io ho iniziato a fare uno storytelling della mia musica, di tutte le cose, anche di aneddoti, piccoli aneddoti, di scrittura, di collaborazione, di cose. E automaticamente si è trasformato in un viaggio più da ascoltare, anche da seduti. Speriamo quest'estate di riuscire a venire ad ascoltarti dal vivo. Speriamo. Ma sogniamo un po', facciamo finta che l'estate è qua vicina, hanno aperto tutto, facciamo finta che ci sono anche le discoteche aperte, che andiamo in discoteca, che ne so, al Cocoricò. Sarebbe bello. Facciamo finta così. Proviamo. Proviamo. Viste come l'ha preso lui? L'ha presa bene. L'ho presa bene, è stato bravo. Per sognare un po'. Cocoricò ti ricorda tanto? Eh beh, cavolo, è un luogo che ha visto nascere un po' il nostro periodo più bello, che è quello di quando cresci, quando ti affermi col tuo lavoro. Abbiamo smesso di essere degli adolescenti, abbiamo smesso di essere degli uomini che facevano dei propri sogni, dei propri mestieri. Quindi quel locale poi ci ha visto passare parecchie volte. E oggi lo ricordi in una canzone? Oggi. Che poi è quella che uscita. In questo periodo lo ricordo, ricordo una bellissima serata che abbiamo fatto insieme ai Blu Vertigo, tra l'altro c'è questa citazione di Morgan che salta da un balcone all'altro, sembra sia la verità, però è perso un po' nei ricordi della serata. Anche perché eravamo a latitudini temporali un po' particolari, verso le 8 di mattina, quindi dei ricordi precisi. Va bene, è anche bello mantenere un po' di mistero. Sì, allora, senti, io ho rubato una vecchia domanda di Disco Ring, dell'84, se non sbaglio, e la domanda è questa. Sono emozionato un po', perché sai quando prendi le cose che non ti appare? Che cosa ci canti questa sera? Vi canterò Cocorico, tratto dal mio ultimo album da solista, che si chiama Brigata Bianca. Bene, perfetto. Grazie. 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 Grazie.